Vabbè, vedi che stocca di formaggio, eh? No, ti ha rompito anche questo. Mangiamo questa volta? Oh. Vedi, ti affoghi però. Oh no. Sei pieno di più. Ma possiamo che c'è da avere uno strontso ogni volta che mi metto a mangiare la palaparezza? E' antico. Ma ne è troppo? Oh, ecco neanche. E' un rispetto, ne mi chiudo. Sì, ma ne è più. Ma il rispetto lo fai da te, eh? Vedi, giù. Dai, giù. Nonna Mari, ma ne è troppo? Guarda come mangia. Quattro ganassi. Oh no. Nonno. Arzughe? Carzughe. Guarda, guarda come arzuga. Tutti insieme. Tre, due, uno. E' questo o no? Eh? Le capocci di rapi. Ma che sarebbero le capocci di rapi? I rape? Ah. Tu non ne sai come infatti. Ah. Oh, i rape. Sopra c'hanno i boccioli, i coschi che si mangiano. Ah. E sotto la radice sono queste, c'ha le capocce. Quindi che so queste? Le capocci di rapi. Come so? Sono come i coglioni.